Abbiamo iniziato questa partnership con Cremona Fiere e noi della DLG e avendo individuato in Cremona Fiere il partner ideale per le nostre attività qui in Italia iniziando un progetto su larga scala che inizierà con la prima iniziativa che è Bio Energy Italy ma toccherà tutti i temi che riguardano l'agricoltura moderna. La DLG da 125 anni nel mercato delle manifestazioni ma non solo, soprattutto in quello di trasferire il sapere tecnologico e scientifico nella pratica agricola ha riconosciuto in Cremona Fiere un partner ideale in quanto la tradizione agricola e le potenzialità del territorio sono per noi e per Cremona Fiere i presupposti ideali per creare questa nuova alleanza strategica.